ho fatto un sogno straordinario in cui c'era l'arte che assomigliava a una donna una donna felice e piena di vita ho visto anche la scienza che sembrava un uomo elegante e geniale poi sono comparti oggetti proprio da un altro mondo oggetti strani e stupendi così ho capito che tutto inizia con un'idea e che l'arte e la scienza sono come vecchi amanti che non possono vivere l'uno senza l'altro e poi mi sono svegliato